Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori 3 km di coda in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa. Rallentamenti sulla carreggiata opposta in direzione Mare. Per incidente in direzione Firenze, code a tratti tra Cascina e il Bivio Pisa Livorno. Sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze per Itola. Rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. E rallentamenti per traffico intenso tra Alto Pascio e Lucca Est in direzione Pisa. In A12 per lavori, code in direzione Genova tra Pisa Centro e il Bivio per la 11. E in direzione Livorno tra il Bivio per il raccordo Lucca-Viareggio e il Bivio per la 11. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!